Daniela un sapore veramente particolare vincere un derby all'ultimo minuto segnando la rete decisiva sì sono contenta per il gol perché mi mancava da un po' ma sono contenta soprattutto perché abbiamo portato a casa i tre punti poi vincere un derby qui a Brescia è molto importante sapevamo che la partita non fosse stata semplice così è stato però noi avevamo fame e voglia di portare a casa i tre punti ci avete messo il cuore quest'oggi sì ci abbiamo messo il cuore perché comunque volevamo dimostrare a tutti che se prima non eravamo fenomeni ora non siamo delle brocche credo che qualcosa già da oggi si è visto adesso dobbiamo solo pensare a lavorare e pensare a partita dopo partita come avete vissuto questa settimana è venuto anche il presidente a parlarvi negli spogliatoi lunedì dopo la partita contro il Verona beh è giusto che il presidente dice dica lo suo è stata una settimana difficile ci siamo confrontate negli spogliatoi abbiamo capito che dovevamo dare una svolta a questo campionato e credo che il cammino è ancora lungo però siamo sulla strada giusta ecco la strada è giusta la Fiorentina però ha allungato ancora in classifica vincendo oggi a Tavagnacco adesso bisogna vincere tutte non bisogna proprio far calcoli beh noi penso che non dobbiamo pensare al Fiorentina al Verona al Mozzanica a nessuno noi dobbiamo concentrarci solo sulle stesse perché credo che tutto dipende da noi dobbiamo lasciare fuori dal nostro nucleo perché noi siamo un nucleo familiare tutte le voci che si sentono in giro e pensare a lavorare a dimostrare che che noi siamo un'ottima squadra e che possiamo dire ancora la nostra grazie prego